Ma Achille, chi è davvero? Perché Achille per tutti noi è un guerriero implacabile, feroce, quasi disumano a tratti. Abbiamo sempre queste immagini, io quando ero piccolo ho sempre fatto il tifo per Ettore, perché pensavo ok, Ettore è un umano, Achille è figlio di un dio, è quasi immortale, solo una parte, il tallone, dove puoi essere ferito, te lo copri, fai tranquillo, fai la guerra, che paura hai, tu ti sverdi, si uffide di un uomo, non devo fare niente a nessuno, però non è così, non è così per due motivi, il primo è perché Achille sa di essere vittima di una maledizione, Achille è stato messo di fronte a una scelta, lui sa che partecipando alla guerra di Troia morirà in battaglia, giovane, però sarà ricordato in eterno, aveva un'alternativa, era quella di passare la sua vita tranquillo e beato tra i monti come un contadino qualunque senza che nessuno si ricordasse di lui, Achille sceglie la gloria eterna, sceglie la morte, perché all'epoca non c'era un al di là a cui aspirare, per cui la gloria era la gloria terrena, come diceva Stefano prima, per cui il premio, il suo premio non era soltanto la donna, era anche un emblema della sua gloria, quello che Agamennone gli sottrae, e in secondo luogo perché Achille, che è un semidio, in realtà è il più umano tra gli esseri umani, Achille è uno che piange, è uno che si dispera, è uno che cerca la madre quando si sente ferito, e lui, lui che incarna lo spirito guerriero, lui che è il guerriero perfetto, in questo testo pronuncia parole di pace, ed è l'unico, è l'unico guerriero in tutta Liliade, è l'unico personaggio che pronuncia parole di pace, lui in questi versi che ho appena letto, dice io non faccio la guerra contro i troiani, non sono stati loro a togliermi le vacche, ci sono prati erbosi che ci separano, io combatto per te Agamennone, lui denuncia la follia della guerra, evidenzia come chi comanda non si sporca le mani e chi si sporca le mani come lui in realtà alla prima occasione viene raggirato e tradito, e Achille, il più umano tra gli esseri umani, pur semidio, prende e se ne va. Fuggi, se il tuo cuore ti spinge a questo, io non ti supplico di rimanere per me.